ciao a tutti e bentornati su questa serie la prima del canale è un po lunga e lo so però prima o poi qualcuno o qualcun altro o qualcun altro passerà al turno dunque partiamo sempre dal portafortuna che il numero 17 attenzione serie 16 17 e ci propone 20 euro 5 euro 500 euro e ancora 500 euro sarebbe una bella vincita 500 euro anche 20 passerebbe già il turno ancora 5 euro e 20 euro quindi anche questo è furbo ci fa illudere e poi si lascia bocca asciutta passiamo al doppia sfida che gli mancano 5 euro per passare ricordo 18 18 18 33 le anni di un diamo un po 44 10 in meno per la vincente 40 e 33 in più o 4 in più e della vincente già ci giriamo intorno 29 c'è il 25 16 ma c'è il 18 38 ma già si vede 100 mila euro quindi io vedo un attimo confuso 10 donne 50 euro come già detto 100 mila per scaramanzia grattiamo il codice va 594 è il codice attenzione ricordatevelo poi il 30 ci nasconde 20 euro 20 euro sotto il 29 sarebbe bello anche 20 euro anche 10 passerebbe comunque il turno 2 euro è sempre quel passettino piccolo piccolo da fare 100 mila è un po troppo perché 100 mila inizieremo a fare due serie tre serie di fila di fila di latte vinci e passiamo all'ultimo numero che sotto nasconde speriamo una bella cifra quindi o 20 euro o 100 mila euro ma cosa dite a me 100 mila euro sicuro 100 mila euro le abbiamo vinti dai ecco qua no sono solo due zeri 2 euro ci ha fregato ci ha fregato ci ha fatto il giochino delle doppie 20 20 22 100 mila 100 mila 50 e 10 quindi anche questo è perdentissimo andando sempre ad aggiornare il diario di bordo e pulendo il tavolo vediamo che ancora 0 e di nuovo 0 e rimaniamo 15 per il doppia sfida a 4 euro per il portafortuna è stato avvincente anche questo video spero che vi sia piaciuto lasciato un commento bello o brutto che sia iscrivetevi se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina condividete il video e ci vediamo un prossimo video ciao a tutti e a tutte